Già sottoposto al divieto di avvicinamento non ha smesso di perseguitare la sua ex compagna, per questo è finito in carcere. La Polizia di Stato di Lecco ha arrestato un marocchino di 28 anni per reiterati maltrattamenti nei confronti della ex compagna, una lecchese di 37 anni. Già il 23 novembre l'uomo era stato colpito dal divieto di avvicinamento alla donna per maltrattamenti in famiglia, provvedimento emesso dalla GIP del Tribunale di Lecco. La donna era riuscita ad allontanare il compagno dalla propria abitazione e a raggiungere l'ufficio denunce della questura, dove aveva raccontato tutte le violenze subite. Il personale della squadra mobile, della sezione specializzata per la tutela delle fasce deboli sotto la direzione della procura, ha poi avviato immediate indagini che hanno dimostrato quanto dichiarato dalla donna. Nonostante il provvedimento restrittivo, l'uomo ha continuato a perseguitare l'ex compagna, continuando a pedinarla e a farsi trovare davanti alla sua porta di casa. In un'occasione la vittima è stata bloccata e picchiata alla sua guzzino. Anche in questo caso la 37enne è riuscita a fuggire e a denunciare l'accaduto. Anche grazie all'aiuto dei testimoni è stato possibile ricostruire e accertare i fatti. Il pubblico ministero non ha esitato a chiedere e ottenere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo stalker. Gli uomini della squadra mobile hanno rintracciato l'uomo nei prestiti del suo luogo di lavoro a Cisano Bergamasco e lo hanno condotto in carcere.